Domani l'autopsia sul corpo di Tommaso Fabris, dai nostri archivi una sua intervista. Durissima la presidente della commissione sociale Lucia Fincato sull'ISAC, il CDA si dimetta. Il teatro Astra piomba in consiglio comunale, l'ex sindaco Poletto propone l'esproprio. Medici di famiglia in stato di agitazione da 24 ore dopo l'ennesimo incontro fallito con la regione. Il piccolo Ettore torna a scuola ma il papà ammette che non è cambiato nulla, la lotta continua. Pioggia in pianura, neve in montagna ma è tutto inutile per combattere la siccità. Segnalazione dei cittadini nel bagno pubblico di Prato, Santa Caterina, corre l'acqua da giorni. Pauroso incidente a Cavaso del Tomba, ferito un diciottenne che esce di strada con la sua auto. E' morto Giorgio Miatello, unico testimone dell'omicidio della moglie, si aggrava la posizione della figlia. Un cordiale buonasera a tutti voi telespettatori, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Tg Bassano. Lo avete visto dai nostri titoli in apertura. Il caso di Tommaso Fabris, il 17enne morto per una grave forma di meningite. Ebbene, domani sarà eseguita l'autopsia e dopo il nulla osta della procura sarà fissata la data del funerale. Intanto nel prossimo servizio sentiamo proprio la voce di Tommaso in un'intervista rilasciata a Rete Veneta nel 2019. Adesso andiamo a premiare la formazione che ha vinto queste finali nazionali Under-14. Chiamiamo l'Occigen Bassano e il suo capitano Tommaso Fabris. Era il 30 giugno del 2019. L'Occigen Orange One Under-14, la formazione capitanata da Tommaso Fabris, conquistava il titolo di campione d'Italia. In quell'occasione era stato proprio il capitano, proprio Tommaso, a raccontare ai nostri microfoni il segreto del successo della sua squadra. Abbiamo messo una buona implicità a tutti gli allenamenti di quest'anno e ci siamo impegnati sempre. Sono trascorsi appena tre anni e mezzo da questa intervista, ma in realtà sembra che sia passata un'eternità. Tre anni e mezzo durante i quali Tommaso è diventato un giovane uomo, con tanti progetti e sempre nuovi obiettivi nella scuola e nello sport. Una vita che cresce, che guarda con fiducia e speranza al futuro, che cambia nel fisico ma non nelle passioni, perché l'amore di Tommaso Fabris per il basket è sempre stato enorme. Tant'è che mamma Emanuela sogna di poter vedere presto realizzato un campo da pallacanestro da intitolare al figlio, scomparso a 17 anni a causa di una terribile forma di meningite. Oggi tutta la comunità si deve stringere attorno alla famiglia e questa è sicuramente una richiesta che valuteremo e che cercheremo di dare una risposta positiva. Intanto la famiglia sta attendendo nulla osta per la sepoltura. Domani sul corpo di Tommaso sarà effettuata l'autopsia. Soltanto dopo potrà essere fissata la data del funerale, che con ogni probabilità sarà celebrato all'inizio della prossima settimana. La scuola che Tommaso frequentava si riuniranno tutti insieme dalle 10 alle 11 nel cortile dell'istituto per un momento di riflessione per il compagno prematuramente strappato alla vita. E anche il mondo del basket si fermerà per ricordare il suo campione. Il comitato regionale Veneto della federazione pallacanestro ha disposto che su tutti i campi e in tutte le categorie sarà rispettato un minuto di raccoglimento in memoria di Tommaso. E in previsione del grande afflusso di persone che parteciperanno ai funerali di Tommaso, con ogni probabilità lunedì pomeriggio la cerimonia verrà svolta al Paladue di Bassano. Noi adesso voltiamo pagina. Dopo la richiesta quasi unanime di dimissioni del CDA dell'ISAC, piombano in Consiglio Comunale le domande della minoranza sulla gestione anche politica delle case di riposo bassanesi. Dal Consiglio Comunale di Bassano arriva una presa di posizione precisa e netta sulle case di riposo, con una richiesta di dimissioni quasi ecumenica nei confronti del CDA. Ma la faccenda ha comunque confermato che la situazione era una spina nel fianco per l'amministrazione di Elena Pavan. Quando abbiamo discusso di queste cose in altre sedi, questi problemi cheppure erano stati evidenziati almeno da tre anni da familiari, degli ospiti, operatori, cittadini, sindacato, media, buon ultime, le minoranze, che denunciavano questi problemi, si negavano che questi problemi ci fossero. Nelle ultime settimane le prese di posizione sull'ISAC si sono moltiplicate anche in seno alla maggioranza che sostiene la Pavan, mentre qualcun altro puntava il dito sulla gestione delle case di riposo già da tempo. Scopriamo adesso che l'assessore da tre anni diceva che non andava bene questo CDA, che il sindaco non era mai stato fatto partecipe, eccetera, eccetera. Però qualcuno lo diceva da tre anni. Ecco, quindi io credo che questo debba essere sottolineato. Restiamo a parlare di ISAC con il presidente della Commissione Sociale del Comune di Bassano, Lucia Fincato. Quello che è importante e che è sempre stato importante è il benessere degli ospiti, perché ricordiamo che gli ospiti quando entrano in questa struttura trovano una nuova famiglia e chi sono i nuovi familiari, i nuovi amici? Sono gli operatori sociosanitari. Parte da qui, da questo assioma su cosa è importante in una casa di riposo, il nuovo percorso dell'ISAC di Bassano dopo la richiesta di dimissioni del CDA reiterata dal Consiglio Comunale, dopo la manifestazione dei sindacati e dopo le roventi polemiche dei giorni scorsi. E la stessa presidente della Commissione Sociale ribadisce quali devono essere i primi passaggi. Bisogna ricreare un clima di serenità, un clima di comprensione e quindi bisognerà chiedere anche di fare un passo indietro, un atto di responsabilità, che non vuol dire che ci sono delle responsabilità, delle accuse verso qualcuno. La situazione è molto complessa e l'amministrazione comunale è stata contattata da ospiti e familiari proprio per questo motivo. Si sono arrivate un sacco di lettere e di documenti che testimoniano disagio, malessere e solitudine anche di questi anziani. Quindi è il momento di provare, di tentare di migliorare la situazione. Dopo settimane di guerra di trincea fra CDA e amministrazione, con la città che chiede chiarezza, la politica bassanese ribadisce. È il momento di fare un passo avanti. È il momento di riflessioni, non è il momento di fare polemiche, di dare accuse, ma assieme, la città assieme, che se ne venga fuori, insomma, quanto prima. Perché più si va avanti con la polemica, peggio è. Ancora tematiche cittadine, perché nell'ultimo consiglio comunale si è parlato anche del teatro Astra. Ebbene, l'ex sindaco Poletto propone all'amministrazione di tentare la via dell'esproprio. Dopo il nuovo cedimento dei giorni scorsi di una parte del tetto, il teatro Astra torna in consiglio comunale, dove a fare acqua non è il buco sullo storico edificio di Viale dei Martiri, ma bensì la gestione dell'amministrazione di Elena Pavan. Pensieri e parole dell'opposizione cittadina, che l'altra sera ha batto vita a un acceso scontro con la sindaca. Una polemica senza tempo, perché sul tavolo del confronto finiscono le dichiarazioni di Elena Pavan, fatte all'inizio del suo mandato. Finisce l'estenuante incertezza presente e finisce soprattutto una nuova idea per il futuro del teatro. Abbiamo scoperto una sindaca invece che si è scagliata contro i privati, scandalizzata da una situazione di stallo. Ecco, è anni che c'è questa situazione, è anni che la denunciamo, è anni che i cittadini la denunciano. Per cui noi alla sindaca chiediamo di fare qualcosa. E questo qualcosa, secondo l'ex sindaco di Bassano Riccardo Poletto, potrebbe essere tentare la via dell'esproprio. La invitiamo a muoversi nella direzione dell'esproprio, a perlustrare quella strada, cercando alleanze per quella strada, sovrintendenza, ministero, anche altri comuni, in modo da fare squadra e spingere verso un'acquisizione che potrebbe essere anche forzosa da parte del comune. Insomma, bisognerebbe fare gioco di squadra, proprio quello che ha detto di molti è uno dei talloni d'Achille della gestione Pavan. Ma sull'Astra e sulla sua importanza, Poletto rincara la dose mettendo Bassano a confronto con le altre realtà della zona. Purtroppo la comparazione tra Bassano e comuni con termini anche di entità molto minore è una comparazione che ci vede penalizzati. Il riferimento in questo caso è legato ai fondi PNRR, ai bandi e alla capacità di intercettare risorse. Bassano, da questo punto di vista, è rimasto molto, molto indietro. Non parlo solo di grandi opere, parlo anche di progettualità minori, parlo anche di progettualità in altri campi che non sono soltanto quelli dell'opera pubblica. Parliamo adesso di sanità. Medici di famiglia in stato di agitazione da 24 ore dopo l'ennesimo incontro fallito con la regione. Carenza di medici di famiglia con aree del Veneto dove mancano più del 70% delle assegnazioni, dialogo impossibile con la regione, è il rischio privatizzazione del servizio territoriale di medicina generale che ha portato allo stato di agitazione i medici aderenti alla FIMG. Noi vogliamo gridare il nostro disappunto, la nostra preoccupazione, la nostra arrabbiatura, la nostra voglia di affiancare la popolazione veneta rispetto a una deriva inaccettabile che la politica dichiari che il cambiamento di visione politica del nostro Veneto oggi è rispetto a pubblico privato ma non a un'integrazione, rispetto a una vera concorrenza pubblico privato che ha un campo libero senza regole. Questa è anche l'unica spiegazione di questo muro di gomma che impedisce qualunque dialogo dalla parte della regione sulla riorganizzazione che sta facendo dei provvedimenti in modo assolutamente autonomo e non condiviso che per carità di Dio entra anche nei loro ruoli che però danno un'indicazione precisa e noi ci sentiamo nel dovere di chiedere spiegazioni e di allarmare anche e soprattutto sindaci e cittadini di quello che sta succedendo. Regione che va avanti in modo unilaterale a colpi di delibere d'emergenza all'accusa dei medici di famiglia che come esempio concreto si riferiscono all'aumento a 1.800 pazienti degli assistiti. La cosiddetta delibera sull'aumento a 1.800 che hanno fatto in modo autonomo basterebbe andarsi a guardare i numeri che abbiamo presentato oggi per vedere che i medici del Veneto in linea di massima hanno tutti 1.700 pazienti 1.700 rompite quindi è un provvedimento inutile. Bisogna pensare non in termini emergenziali ma in termini strutturali. Parliamo adesso del piccolo Ettore di Rossano Veneto che finalmente torna a scuola ma per lui non è cambiato quasi nulla. Ecco il racconto del papà. Ettore manca da scuola da qualche giorno ma il bambino che ha la sindrome di Mebius e ha bisogno di costante aiuto e supporto lunedì tornerà in classe e troverà oltre ai suoi compagni e agli insegnanti anche la stessa situazione che aveva lasciato perché per lui non è cambiato nulla o quasi. sostanzialmente non è proprio cambiato nulla la situazione è sempre questa è sempre uguale da settembre è sempre uguale agli anni precedenti ovvero noi dovremmo continuare ad essere presenti a scuola per superire alle mancanze di assistenza sanitaria. Manca ad esempio una parte della formazione degli operatori. Manca da finire la contestualizzazione e le uniche e delle altre attività da fare per imparare a gestire, comunicare, a interagire con Ettore. In realtà la carenza più grave è quella di una copertura per tutte le ore di scuola nelle quali Ettore ha bisogno di una presenza fissa e appositamente formata. E poi appunto c'è la copertura totale che comunque non è ancora garantita siamo a 16 ore più 4 perché ci sono state arrivato un fondo nazionale per l'assistenza alla comunicazione e all'integrazione dei bambini e grazie a questo la conferenza dei sindaci ha confermato la possibilità di aggiungere altre 4 ore ma solo per quest'anno. Insomma il rischio è che alla ripresa delle elezioni a settembre o giù di lì la situazione sia ancora quella di oggi. Intanto la famiglia aspettava un pronunciamento dal Tribunale di Vicenza per il procedimento contro l'U7 proprio sulla copertura delle ore scolastiche. La sentenza è stata una sentenza per noi positiva perché ci ha dato ragione in quello che sono le nostre richieste però purtroppo la strada è ancora lunga. E il caso del piccolo Ettore e di altri bambini che si trovano nella sua situazione sarà al centro di una puntata speciale di Focus che andrà in onda domani sera. Su Rete Veneta i genitori di Ettore saranno ospiti del nostro direttore Luigi Bacialli con la loro storia e con le storie di altre famiglie che stanno lottando per veder riconosciuti i diritti di questi bambini e di queste bambine. Noi adesso andiamo avanti e parliamo di Fidas Vicenza che fa il punto delle donazioni di sangue e per il 2023 lancia nuovi spazi di incontro e di formazione. Il 2022 è un dato molto bene dal punto di vista delle donazioni di sangue 28.131 grazie a tutti i donatori. Un bilancio felice quello dell'ultimo anno per Fidas Vicenza e anche il 2023 è iniziato nel migliore dei modi. A gennaio le donazioni di sangue sono in crescita. Sì, è iniziato molto bene perché siamo già a quota 2.358 donazioni, un 17% in più rispetto a gennaio scorso, un buon proposito per questo nuovo anno. Il 2023 indica un incoraggiante più 17% di donazioni di sangue. Sangue che non è una risorsa infinita, bisogna alimentarla, servono sempre nuove donazioni. Cari donatori, continuiamo a donare il sangue perché oggi ce n'è estrema necessità. Il sangue non si fabbrica e quindi siamo noi in primis a metterci il nostro piccolo aiuto. Intanto quest'anno è stata lanciata un'iniziativa innovativa Fidas V-Lab con l'obiettivo di creare spazi di incontro e formazione, assemblee e laboratori pratici su singoli temi. Il primo appuntamento è stato dedicato agli adempimenti della normativa privacy con grande partecipazione di tutti i donatori di sangue. E gli eventi di Fidas V-Lab naturalmente continueranno con tante novità. Certo che sì e quindi un grande appuntamento non solo per i volontari e per i responsabili associativi di Fidas Vicenza ma anche per la cittadinanza intera che sarà coinvolta. Torna la neve in alto piano, la pioggia in pienura ma il problema siccità continua a persistere. Torna la neve e l'alto piano si trasforma magicamente in una cartolina da fiaba. La perturbazione che è transitata sul Veneto nelle scorse ore ha portato un abbassamento delle temperature e una nevicata che ha ridato un po' di ossigeno al comprensorio dove erano molte le chiazze di verde lasciate dalle spolverate delle scorse settimane ormai sciolte. La nuova Coltre Bianca permetterà al comparto turistico di mantenere aperte o riaprire in alcuni casi le piste da discesa e da fondo almeno fino a quando la colonnina di Mercurio si manterrà su una posizione decisamente invernale. Dopo anni di difficoltà questo dettaglio può far la differenza per gestori di impianti, alberghi, ristorazione e per tutto l'indotto. Non si segnalano comunque disagi per la viabilità che nei giorni di punta in concomitanza con pioggia o neve può andare in affanno e portare lunghe colonne di auto nei punti neri ben noti dell'alto piano. I fiocchi caduti in montagna e le due gocce registrate in pianura non potranno però fare un gran che per risolvere la situazione della siccità che resta allarmante soprattutto in vista dei prossimi mesi. Le falde sono in grave difficoltà e nei pozzi della pedemontana mancano fino a 8 metri d'acqua ma di invasi, bacini e banche dell'acqua non si sente più parlare. E in un periodo di appunto allerta a siccità e di costi alle stelle ecco le immagini di un maxi spreco di acqua in un bagno pubblico di Bassano. Che molti bagni pubblici a Bassano fossero in condizioni pessime è tristemente risaputo. A segnalarcelo sono da anni i cittadini, i turisti di una città che dovrebbe far parlare di sé solo per le sue bellezze ma come recita una vecchia massima non si può capire davvero una città senza prima utilizzare i suoi bagni pubblici. E qui, ahimè, caschiamo male perché se anche accantonassimo per un attimo il discorso pulizia e degrado ecco spuntare un caso di spreco idrico. Una cittadina ci segnala che nel bagno pubblico ai piedi della scalinata di Prato Santa Caterina lo sciacquone del WC continua a consumare acqua con un getto ininterrotto. Insomma, in un periodo di allerta a siccità e di costi alle stelle situazioni come questa sono davvero uno spreco doppio di acqua e di soldi. E nel prossimo servizio parliamo di degrado e di rifiuti abbandonati. Via Gobetti, laterale di Viale Asiago in zona San Michele. Qui, dove il verde è il colore dominante dove le sue sfumature raccontano di una natura protagonista ecco spuntare per l'ennesima volta il nero dei sacchetti di plastica abbandonati lungo il canale. Sacchetti di immondizie e rifiuti lasciati lì come un pugno in un occhio a macchiare di nero il paesaggio. Le segnalazioni di degrado in zona non sono una novità ma restano una triste realtà. Sono in molti i residenti di Via Gobetti e in generale dell'area di San Michele che ci hanno contattato per raccontare un problema di Bassano. Problema che abbiamo riscontrato anche poco lontano in Contra San Giorgio verso Valrovina. Qui vediamo cassonetti rovesciati e rifiuti sparsi. Ancora una volta porteremo queste segnalazioni all'attenzione dell'amministrazione comunale e di chi ne ha competenza. E se avete segnalazioni di degrado, di disagi non esitate a contattarci. Questi sono i nostri recapiti. Come sempre noi porteremo poi tutte le segnalazioni all'attenzione di chi sarà preposto a trovarne una soluzione. Noi adesso continuiamo con la cronaca incidente intorno alle 13 a Cavaso del Tomba ferito un diciottenne uscito di strada. Potrebbe essere stato l'asfalto reso viscido dalla pioggia a causare la fuoriuscita autonoma di un'auto nella tarda mattinata di oggi a Cavaso del Tomba. La vettura ha finito la sua corsa in un fossato in quel momento con diversi centimetri d'acqua. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco giunti da Castelfranco che hanno estrato dalle ramieri il giovane alla guida un diciottenne del posto poi affidato alle cure dei sanitari del Suem arrivati in via Spineda con automedica, ambulanza ed elicottero che ha trasportato l'automobilista al caffoncello di Treviso. Il ragazzo ferito gravemente non sarebbe in pericolo di vita al lavoro anche gli agenti della polizia locale dell'Unione Pedemontana del Grappa per i rilievi di legge e la ricostruzione della dinamica. Ancora cronaca con i carabinieri della compagnia di Bassano che hanno arrestato un 28enne ganese residente a Rosà trovato in possesso di quasi 140 grammi di marijuana che nascondeva nell'auto. L'uomo è stato fermato a Tezze sul Brenta nell'abitazione nascondeva anche altra droga un bilancino e materiale per il confezionamento delle dosi. Il giudice ha convalidato l'arresto applicando nei confronti del ganese la misura cautelare dell'obbligo quotidiano di presentarsi presso la polizia giudiziaria. E adesso spazio ad altre brevi notizie del territorio. Domani ad Asiago si terrà un incontro per la sanità territoriale e per il diritto alla salute in sala della comunità montana. La CGL e il sindacato pensionati parleranno del PNRR. Domani a Marostica si terrà l'incontro quando la terra trema nell'oratorio Don Bosco. Il corpo antincendio e la protezione civile spiegheranno cosa succede come comportarsi e come si attivano i soccorsi in caso di terremoto. è morto Giorgio Miatello unico testimone dell'omicidio della moglie allora si aggrava in questo modo la posizione della figlia. Giorgio Miatello 89 anni unico sopravvissuto al massacro avvenuto nella notte tra il 26 e il 27 dicembre nella sua abitazione di San Martino di Lupari era l'unico testimone oculare a detta della procura dell'omicidio della moglie Maria Angela Sarto di 84 anni. Quella notte l'anziano subì anche un tentato omicidio. Per questi reati è indagata la figlia dei due anziani coniugi la 51enne Diletta Miatello che ora potrebbe ritrovarsi indagata di duplice omicidio. Giorgio Miatello dopo quel tragico fatto venne ricoverato per lungo tempo in terapia intensiva fino al 31 gennaio quando venne trasferito in una struttura privata a Campo San Piero. È lì che è mancato martedì. Il medico legale su ordine del pubblico ministero effettuerà l'autopsia sul corpo dell'anziano che come detto era il testimone chiave del processo alla figlia. Proprio oggi la procura ne avrebbe raccolto la deposizione presso la casa di cura. In prima serata il focus con il nostro direttore Luigi Bacialli gli ospiti di questa sera sono Mario Fabris Alessio Morosin Federica Pietro Grande Alberto Rugin Alessandro Trentin Massimo Venturato e Alberto Villanova. È davvero tutto non mi resta che ringraziarvi per aver scelto l'informazione di Rete Veneta e vi auguro buona serata. Grazie a tutti.